Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti nel video parlato di questa settimana. Oggi vi parlo di 10 consigli per chi inizia a approcciarsi al mondo di Formula 1, sia che riguardano la guida, che riguardano un po' la teoria e che riguardano proprio il gioco in sé, per cercare di migliorare e perlomeno risparmiarvi la fase iniziale di apprendimento del gioco o proprio la fase iniziale di apprendimento di questa disciplina motoristica, che per certi versi è la più diversa da quella standard della guida delle macchine, insomma. Iniziamo subito parlando del primo consiglio, e cioè vedo spesso gente che guida da poco non sfruttare tutta la pista. Che voglio dire? Ovviamente quando guidate in generale, e questo è un consiglio che in realtà riguarda un po' tutte le macchine, ma soprattutto con una Formula 1, dovete cercare di sfruttare tutta l'ampiezza della pista a cordoli compresi. Quindi, se ad esempio ci avete da fare una curva, e parliamo di curve da un andamento tra virgolette regolare, se ci avete da fare una curva a destra, dovete cercarvi di allargare il più possibile a sinistra, toccare il punto di corda a destra e poi riallargarvi in uscita tutto a sinistra. Questo semplicemente perché più voi disegnate un arco largo con la vostra traiettoria, più potrete mantenere una velocità più alta. Più stringete questo arco disegnato dalla vostra traiettoria, più dovrete diminuire la velocità e di conseguenza sarete più lenti. Parlando sempre di traiettoria, un consiglio che vi voglio dare è quello di eliminare assolutamente prima possibile se la utilizzate la traiettoria dinamica. Ci ho fatto già un altro video a riguardo in cui vi dicevo in uno short perché secondo me la traiettoria dinamica va assolutamente eliminata, e cercate di spiegarvelo ancora meglio. Quando voi utilizzate la traiettoria dinamica siete portati per forza di cose, e non è una cosa volontaria però la vostra testa di base fa quello, a focalizzarvi su quella striscetta colorata. So che c'è gente che dice no ma io ormai la tengo lì solo per abitudine eccetera eccetera, ma di base voi non giocherete più a guidare una macchina o a interpretare la pista, ma semplicemente guiderete per cercare di tenere la macchina sulla striscetta colorata. Non guarderete tutto il contesto, non guarderete tutto il resto. Prima la levate, prima vi liberate di questo vincolo perché dovete sapere che la pista dovete imparare a voi come interpretarla. Dovete capire voi guardandola quella che è secondo voi l'interpretazione da dargli. Poi potete provarla, vi trovate, non vi trovate, sperimentate varie traiettorie, ma la traiettoria dinamica è la cosa che vi rende meno reale possibile il gioco, perché di fatto fate un altro sport, cioè voi giocate a correre su una striscetta. Il resto non lo guardate proprio, quindi prima riuscite a togliervela dalle scatole meglio è. Sempre parlando di traiettoria un altro consiglio che vi voglio dare è sull'importanza di avere una traiettoria corretta. Mi spiego meglio, cercherò di essere molto molto stretto perché in realtà sulla traiettoria ci voglio fare un video specifico a parte che va analizzata sotto vari punti di vista, ma nello specifico parlando di Formula 1 non è detto che la traiettoria rotonda sia la migliore, anzi molto spesso per una Formula 1 vale quasi lo stesso discorso che vale per una MotoGP. Quindi in molti casi a più senso spigola una curva, cerca di riadrezza la macchina il prima possibile e spingere al massimo, magari utilizzando marce alte. Sono cose che poi comunque vi dirò nello specifico quando parlerò in un video della traiettoria, però cercate comunque sia di avere un approccio meno generico possibile al mondo delle curve con la Formula 1. Lo so che sono stato un po' vago, però cercherò anche di farvelo capire con questi disegni che ho messo qui a schermo, che non sempre girare tondi è la soluzione migliore con la Formula 1, anzi sostanzialmente quasi mai, perché sono macchine che accelerano molto forte, vanno molto veloce e quindi dovete sfruttare tutta la potenza che hanno e per sfruttarla dovete cercare di metterla in condizioni e scaricarla a terra il prima possibile. Altra cosa che riguarda sempre lo stile di guida che mi sento di dire e ho visto fare a molti piloti, è che quando iniziano molti hanno la tendenza a fare una sorta di stop and go, cioè hanno uno stile di guida che li porta a frenare tanto, poi quasi fermarsi e ripartire. Dovete capire che le Formula 1 sono auto studiate per ottenere il massimo delle loro prestazioni andando veloce, l'aerodinamica della macchina, le gomme, tutto quanto è studiato per funzionare andando forte. Se andate piano non funzionano, quindi dovete riuscire a portarle al limite e farle scorrere il più possibile, perché sono auto che funzionano in velocità. Altra cosa importantissima, frenare nel modo corretto. Una Formula 1 frena tanto, tanto, tanto di più di quello che siete abituati con le GT3 se correte o in generale con le auto standard, insomma diciamo. Ma la maniera giusta per frenare è quella di frenare forte e poi gradualmente rilasciare leggermente il pedale del freno mentre si porta l'auto al punto di corda. È una decena di cui vi ho già parlato anche dentro a setto corsa competizione, con le Formula 1 viene esasperata perché le prestazioni dei freni sono ancora più alte, quindi è ancora più difficile farlo. Però questa è la maniera giusta di frenare. Se voi tra la fase di frenata e la fase di accelerazione avete una fase intermedia in cui non fate né freno né acceleratore, state sbagliando qualche cosa. O avete frenato troppo presto o state andando troppo piano sostanzialmente. Altra cosa importante è accelerare nel modo giusto. Come vi ho detto prima, le Formula 1 vanno molto forti, quindi anche in accelerazione dovete riuscire a utilizzare delle tecniche particolari. non si guidano come tutte le altre macchine. Sostanzialmente dovrete abituarvi all'idea di sentire a orecchio, se siete abituati al mondo dei motori, a sentire il motore sempre sotto coppia, che vuol dire che dovrete comunque sia uscire dalle curve e spesso vi troverete con marce abbastanza alte e vi sembrerà a orecchio di sentire il motore che si soffoca. Ma in realtà state andando più veloce perché con le marce basse non ce la fate a gestire la potenza che ha quella macchina e quindi questa maniera di guidare vi permette di andare più forte, anche se vi sembrerà una maniera di guidare all'inizio un pochino particolare, forse anche sbagliata se non siete abituati ovviamente, ma è una cosa di cui vi dovete abituare. L'ultima cosa che mi sento di consigliarvi per quanto riguarda la guida sostanzialmente è quello di sfruttare la scia. Ho visto tantissime volte non sfruttare la scia. La scia che ottiene una Formula 1 ad altissima velocità la sentite da tanto lontano e vi dà una bella spinta, quindi dovete cercare il più possibile di restare in scia a quello d'avanti. Questo ovviamente vale per la parte di rettilineo quando cercate di fare un attacco, perché se invece gli state dietro e molto vicino magari per tanto tempo durante curve o che, quella cosa invece vi dà più che altro problemi, perché comunque la scia della macchina d'avanti se state molto vicino vi rovina la vostra aerodinamica, che ci avrà comunque un grip minore, le gomme si surriscaldano, insomma, ci avrete tutta una serie di problemi, ma in fase di sorpasso sui rettilinei cercate di sfruttare al massimo la scia. Per quanto riguarda gli aiuti in gioco dei cui vi voglio parlare, uno degli aiuti con cui io mi trovo meglio, specie per chi si approccia a sto mondo, in generale tutto questo video è fatto per chi inizia col mondo della Formula 1, quindi mi rendo conto che ho detto cose che per molti possono sembrare banali, ma alcuni mi hanno fatto notare che quello che può essere banale per me, per altri non lo è, perché proprio so cose che non sanno, non è che se ne asce imparate, pure io ne sapevo, sono cose che ho un po' imparato nel tempo, quindi nelle opzioni, e ve lo sto facendo vedere, c'è un'opzione che vi permette di avere un indicatore sonoro della cambiata. Molti si sono lamentati che è un suono fastidioso, eccetera, durante i video, durante i live, eccetera, e io lo capisco, può anche dare fastidio se uno non è abituato a sentirlo e già riesce a cambiare, però vi devo dire che a me mi dà molto aiuto, specie cambiando da GT3 a Auto Normale, a Formula 1, che hanno maniere diverse di cambiare marce, come ho detto, questo indicatore sonoro di cambiata fa un piccolo bip nel momento in cui dovete cambiare e vi dà un'idea di quanto non dovete tirare le marce mentre accelerate. Altra cosa importantissima, la gestione del differenziale. Adesso io la banalizzerò molto, perché per chi inizia non è importante entrare troppo nei dettagli tecnici, anche perché non è detto che vi interessino, però la gestione del differenziale mentre girate è importantissimo conoscerla. Sostanzialmente io di solito lo tengo sempre a 75, che è un intermedio tra il 50, che è la versione più, tra virgolette, conservativa del differenziale, e il 100, che è quella più estrema. Più il differenziale sarà bloccato, più la potenza arriverà sulle ruote in maniera para. E questo che vuol dire? Che ci avrete più potenza, però la macchina sarà più nervosetta, più difficile da gestire nell'uscita di curva, nello scarico alla potenza a terra. Quindi, per esempio, un differenziale 50, di solito lo utilizzo quando vado sulla pioggia. Differenziale a 100 lo utilizzo in qualifica, se proprio mi sento che è una bella giornata, dove tutto può andare bene, ma di base io lo uso a 75. Regolatevi così, se siete all'inizio magari potete tenere a 50, però, insomma, questo è l'utilizzo che potete fare di differenziale. Ricordatevi soprattutto che se piove mettetelo a 50, perché comunque sia vi dà una grossa mano, che già se piove si scivola, e con il differenziale più basso magari vi dà quell'attimo d'aiuto in uscita di curva, specie se state in marce parecchio basse. Un altro consiglio che mi sento di talvi e che io ci ho messo tanto a capire, è la gestione dei componenti del motore. Se state facendo la carriera, vi accorgerete che avete tutta una serie di componenti, quello che vi consiglio è battezzare una batteria dei componenti, che sono tutti i numero 1, tutti i numero 2, tutti i numero 3, quella che vi pare, e utilizzare sempre quella per le prove libere, in maniera che per qualifiche e gara vi utilizzate gli altri componenti e riuscite a gestirvi tutti questi componenti durante il percorso della stagione. Perché arriverete a un certo punto in cui i componenti saranno arrivati e se voi vi sfruttate i componenti buoni pure per le prove libere, sostanzialmente ce ne avete meno va la carriera. Insomma, ovviamente poi il motore se vi si rovina la macchina va. Quindi, prima di entrare nelle prove libere, mettete sempre i componenti scamuffi. Poi, quando state per entrare nelle qualifiche, prima di entrare nelle qualifiche, rimettete i componenti buoni e così via lo fate ogni gara. Vi troverete a un certo punto che i componenti, che sono il numero 1, saranno completamente usurati, ma nelle prove libere va bene uguale, riuscite comunque a farci quello che dovete fare. Ultima cosa che vi voglio consigliare, sempre per il gioco, è la gestione della fase della qualifica. Quando siete in qualifica, è importante che vi regogliate col tempo che avete a disposizione. Come sapete, sicuramente, in Formula 1, col treno di gomme con cui fate il tempo, con cui vi qualificate, dovete iniziarci la gara se partite nei primi 10. Quindi, è importante che quelle gomme le sfruttiate al minimo. Che vuol dire questo? Che con un treno di gomme con cui fate un tentativo, ci dovete fare un giro solo. Uscite, fate il giro e rientrate a fine. Perché se voi fate due tentativi, vuol dire che aggiungete un giro di pista su quelle ruote che ve lo ritrovate in meno come gomma usurata poi quando partirà per la gara. Altra cosa importante in qualifica, cercate di fare magari un giro subito per avere comunque un tempo di riferimento. Poi, se volete, fate un giro intermedio, ma soprattutto è importante che vi calcolate bene i tempi e riuscite a partire per l'ultimo tentativo quando il tempo sta scadendo. calcolate quanto ci mettete più o meno a fare un giro di pista perché comunque dovete fare il giro di lancio e cercate di passare sul traguardo poco prima che scade il tempo. La pista sarà al massimo della gommatura e sarà al massimo delle prestazioni che ve può offrire. Quindi riuscirete a fare comunque sia la vostra migliore prestazione. Bene ragazzi, questi erano i miei primi dieci consigli per chi si approccia o inizia con la Formula 1. Spero che vi siano stati utili. Se qualcosa non l'avete capita scrivetela qua sotto nei commenti che se riesco ve la spiego meglio. Se avete altri suggerimenti da da o puntualizzazioni su quelli che ho fatto ben vengano come sapete a me i commenti fanno sempre piacere. Detto questo io vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme. Vi ricordo che sto sempre in live martedì e venerdì sera su Twitch. Trovate tutto qui sotto nei commenti. Seguitemi anche su Instagram che annuncio sempre quando sto in live. E come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!